Silvano Dressoni dice, Pino Giacco, un altro che si è bevuto il cervello è Vecchioni, in un programma televisivo elogiava il brano di quella pseudo cantante di nome Madame. Per curiosità sono andato ad ascoltarla, non ci sono parole, per rifarmi l'orocchio ho messo su Sad Not Part One dei Pantera, quello sì che è un grazie. L'ho ascoltato anch'io, allucinante ragazzi, una massa di scappati di casa, bisogna ringraziare Armadeus, come cazzo si chiama Armadeus, bisogna ringraziare lui che ha sdoganato tutti questi scappati di casa, e sapete il problema qual è? Purtroppo la massa ignorante, la massa, perché se no questo paese non sarebbe ridotto alle cozze così, purtroppo il problema è l'ignoranza. La massa, basta che li vedono in questi programmi, per loro sono bravi, no? Hai capito? Quando ci sono quelli giù nelle cantine che fanno musica vera, grandi veramente.